Sospesa a marzo a causa della pandemia e ripresa dall'antivigilia di Natale in sicurezza garantita dalla tecnologia e la terapia del sorriso per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica di casa sollievo della sofferenza. Grazie alla determinazione del direttore generale Michele Giuliani alle competenze di Nicola Bellucci, responsabile dei sistemi informativi dell'ospedale e alle preziose donazioni di alcuni benefattori dell'opera di Sampio, è stata attivata una piattaforma tecnologica dedicata alla clown terapia in videochiamata. In pratica due artisti, Pasticcio e Marrangio, questi loro nomi d'arte vestiti da medici pagliacci, entrano virtualmente nelle 15 camere di degenza del reparto e nella sala giochi, attraverso monitor televisivi da 40 pollici collegati a un mini computer, a una webcam ad alta risoluzione con microfono integrato e una tastiera bluetooth con touchpad. Fisicamente i dottori clown si troveranno in un altro edificio a poca distanza dal poliambulatorio dove assiede l'oncomatologia pediatrica e interagiranno con il loro speciale pubblico attraverso un monitor televisivo con stesse caratteristiche e accessori. Gli effetti della terapia del sorriso sono straordinari e scientificamente dimostrati, come ci confermano la dottoressa Lucia Miglionico, dirigente medico del reparto interessato e Michele Fiore in arte Marrangio. La terapia dei clown è quella terapia che fa fiorire un po' i rami che noi cerchiamo di rinverdire, cioè i clown completano quella terapia medica, psicologica, quell'assistenza globale che noi cerchiamo di dare. Loro portano il sorriso e questo è fondamentale, è fondamentale perché ritornare a sorridere in tempo di pandemia e di oncoematologia non è facile, con loro ci riusciamo meglio. Ogni volta la gente ci acclama, ci vuole perché ovviamente soprattutto gente che ci conosceva ci manca, a cui mancavamo e noi riusciamo a ritornare a dare quella speranza, quel momento, quell'attimo di gioia che causa pandemia è venuto a mancare in questi mesi.